ciao a tutti rieccomi qua e sì sono tornata su youtube infatti da poco è finita la scuola e ho finalmente tempo per dedicarmi anche questo canale insieme a tutti i miei altri profili social per chi non mi conoscesse ciao a tutti io sono leti e sono una giovane content creator che porta contenuti rispetto allo studio la scuola la cancelleria ma anche un po di lifestyle in generale le mie due principali piattaforme sono tiktok dove mi chiamo leti.studding e instagram dove mi chiamo leti studying ma ho altri profili come su pinterest dove mi chiamo sempre leti studying e questo canale youtube come stavo dicendo prima con l'arrivo dell'estate ho finalmente più tempo per dedicarmi a questi tipi di video gestire un canale youtube infatti è veramente 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 lunga come cosa richiede tanto tanto impegno come d'altronde anche gestire un po tutti i profili social ma soprattutto il registrare i video editarli e poi pubblicarli veramente un lungo processo per questo appunto con l'arrivo dell'estate e quindi da avere più tempo da dedicare a questa cosa riesco finalmente a pubblicare di più inoltre per chi mi segue anche sugli altri social sa di una grande novità ovvero che quest'anno partirò per una vacanza studio a oxford con if che sarà dal 28 giugno fino al 9 luglio 2023 per questa vacanza studio infatti vloggerò tutto il mio viaggio interamente non solo qua su youtube ma anche sugli altri social quindi tik tok e instagram perciò grazie a questo riuscirò a portarvi già tanti altri contenuti inerenti e soprattutto manca veramente poco a questa vacanza studio e non vedo l'ora oltre a ciò però ho tanti ma veramente tanti contenuti in programma per voi stay tuned quindi sia per la scuola lo studio la cancelleria che appunto sono i temi principali del mio profilo ovvero del mio study tube ma anche studygram e study talk e tanti tanti vlog ma prima di andarmene accetto veramente tanti tanti suggerimenti da tutti voi e se avreste il piacere di darmi un suggerimento scrivetelo pure qua nei commenti che cerco di rispondere a tutti e mi fa solo piacere ascoltare le vostre richieste e questo è quanto per ora non vedo l'ora di tornare a pubblicare anche qui su youtube appunto e di portarvi tanti tanti altri video un bacione da Leti